L'assegno unico e universale è la nuova misura economica erogata da marzo che sostituisce molte delle agevolazioni per i figli a carico. Chi ne ha diritto? L'assegno è riconosciuto a tutti i genitori per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni. Indipendentemente dalla condizione lavorativa, quindi anche i disoccupati, le partite IVA, i lavoratori dipendenti, i percettori di reddito di cittadinanza e le famiglie monogenitoriali. L'assegno aumenta per ogni figlio successivo al secondo, le famiglie numerose, i figli con disabilità, le madri under 21 e per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori. L'importo varia in base all'ISEE. Fai domanda attraverso il sito IMSS o ai patronati. Puoi richiedere l'assegno in ogni momento, ma è tempo fino al 30 giugno per ricevere gli arretrati da marzo. Chiedi l'assegno per i tuoi figli e attiva il nostro futuro.